Prosegue il trend positivo per l'azienda ospedale Università di Padova. Nonostante la nostra provincia resti la più colpita dalla pandemia, i dati sono in calo. Sono 1.601 gli attualmente positivi nel territorio euganeo, meno 471 rispetto allo scorso mercoledì. Il tasso di incidenza è del 68,21 per 100.000 abitanti a settimana, refertati 7.275 tamponi antigenici rapidi e 3.152 salivari. Ben 128 i nuovi casi che hanno come predominante la variante Delta, quella indiana. La fascia d'età più colpita va dai 30 ai 65 anni, l'età del mondo del lavoro. Attualmente l'azienda ospedaliera ha in carico 32 ricoveri per Covid, 8 in intensiva, 3 in subintensiva, un pediatrico, 5 in geriatria e 15 in malattie infettive. Di questi ricoverati 15 non sono vaccinati e 17 sono vaccinati. Il più anziano ha 95 anni e la più giovane è una 37enne non vaccinata con problemi di sovrappeso. In terapia intensiva c'è questa persona molto giovane, ricoverata, non vaccinata, che, come dire, sottolinea ancora una volta l'importanza della vaccinazione. Perché se da una parte è vero che in terapia intensiva o comunque nei reparti abbiamo persone ricoverate e vaccinate, è anche vero che sono persone che hanno un quadro di pluripatologia e che sono persone in cui la vaccinazione ha sicuramente attutito, attenuato, quello che è il loro quadro clinico. Sul fronte delle sospensioni personale sanitario, attualmente il numero in azienda ospedale e università di Padova è arrivato a quota 112, ma di questi 12 hanno deciso di vaccinarsi. Restano 61 infermieri, un dietista, due medici, 5 tecnici e 32 os. Durante il consueto aggiornamento con la stampa, questa mattina, era presente anche il professore Roberto Vettor, direttore del Dipartimento di Medicina, ed è emersa una realtà allarmante. L'obesità, in caso di Covid, aumenta il rischio di decesso del paziente. Questo per tutta una serie di considerazioni. Primo, perché il soggetto con l'obesità spesso è anche un paziente che ha altre comorbidità assieme. È un paziente che sicuramente ha una riduzione dello spazio vitale a livello polmonare, ha una minore performance dal punto di vista respiratorio e quant'altro. Può essere anche diabetico e così via. Questo peggiora sempre di più. L'Italia, rispetto all'Europa, detiene il primato per questa patologia, con 5 milioni che soffrono di obesità e 17 milioni di persone in sovrappeso. Molti sarebbero adolescenti o bambini. In Veneto, il 21,4% dei bambini, uno su tre, ha seri problemi di peso.